Il corpo di San Bernardino è tornato nel suo mausoleo. Alla toccante e significativa cerimonia erano presenti il rettore della Basilica, padre Daniele Di Sipio, il guardiano padre Luciano Melantoni, i frati della comunità di San Bernardino e San Giuliano, il professor Luigi Capasso, che ha curato già da prima del sisma del 2009 la ricognizione del corpo del santo, l'architetto Maurizio D'Antonio, il signor Panfilo Di Muzio, che ha realizzato la cassa in vetro ed acciaio ed attivisti del gruppo aquilano di azione civica, Iemonnanzi. Torna così, dopo oltre nove anni, nel mausoleo completamente restaurato, il corpo di San Bernardino, compatrono della città dell'Aquila, che volle terminare il suo percorso terreno nella nostra città. Ad Aquila, ma d'Aquila, ma d'Aquila, miss e somma. Attualmente il corpo del santo risulta coperto dall'artistica cassaligna realizzata nel 1799 e sarà possibile rivederlo in occasione della festa in sonore che inizierà in Basilica la sera del 20 maggio alle 18.30 con una celebrazione eucaristica. Il 21 maggio la festa proseguirà con una solenne celebrazione eucaristica che si terrà alle 11 e presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, a cui seguirà il rito dell'offerta dell'olio per la lampada votiva perpetua da parte degli alunni dell'Istituto di Rissorigo di Montepulciano. alle 18.30 la messa presieduta da Fra Luigi Recchia, cui seguirà sul Sagrato della Basilica, alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, una preghiera di affidamento a San Bernardino e la benedizione del popolo e della città dell'Aquila con l'esposizione della reliquia del santo.